Il sindaco di Giarre, Angelo Danna, ha affermato che nei prossimi giorni effettuerà la nomina del quarto assessore che andrà a completare la sua giunta. La scelta, afferma il primo cittadino, ricadrà su una personalità proveniente dal mondo della politica vicino all'area del governo regionale, in modo da poter apportare nuova linfa all'azione amministrativa. Quale potesse essere la figura che meglio potesse inserirsi all'interno della squadra di governo della città e potesse in qualche modo darci un contributo. Penso che ci si stia orientando prevalentemente su una figura che abbia anche un minimo di esperienza politica e che sia in grado in qualche modo di permetterci di focalizzare meglio e di accentuare la collaborazione anche con gli organi di governo regionale. Quindi io sto facendo una valutazione, mi sto confrontando ovviamente con il mio gruppo, con la mia coalizione. Stiamo un po' riflettendo su questi temi. In ultima analisi ovviamente è una scelta che dovrò fare io. E ribadisco, spero da qui a una decina di giorni al massimo, che si potrà ormai concretizzare. Quindi ormai i tempi sono ragionevolmente brevi, soprattutto accettando da fare. Il mese di aprile, nell'ambito della cultura, dello sport, ci saranno delle iniziative molto importanti. Ve le anticipo, ma poi avremo momenti. Ci sarà una settimana dedicata alla musica ad alto livello, con dei concorsi, con degli stage. Faremo una settimana dedicata alla danza. In prospettiva ci sarà un evento molto importante, le Olimpiadi organizzate dal liceo classico di Giare, dove verranno scuole da tante parti d'Italia. Insomma, c'è il fermento che giustamente dà un po' di vitalità al territorio e a maggior ragione per questo presto ci sarà anche una figura che potrà coordinare ed aiutarci nel portare avanti gli obiettivi.